Ciao, io mi chiamo Antonietta, ciao Arliello, vengo dalla provincia di Milano, più alto, a nord di Milano. Allora, mi trovo qui, sono arrivata con tante speranze, esaudite, tutte fino all'ultimo. La mia storia è una storia un po' complicata, è una storia di una persona che ha sempre sperato di avere una bella bocca, una bocca sana, una bocca che si potesse ammirare in questo caso. Io ho iniziato a 16 anni, il mio calvario anche prima, avevo un problema di saliva estremamente salata e questo mi portava ad avere lo smalto dei denti tutto corroso e quindi ho cominciato molto presto con le devitalizzazioni, tutte queste cose. I miei genitori mi portarono da un dentista che dissero già a 16 anni di mettermi in bocca una dentiera e vabbè, questo non è stato fatto. I miei genitori con tanta fatica mi hanno messo in bocca il lavorone che ai tempi era con le capsule d'oro, con la ceramica esterna, allora era un lavoro da divi, no? Fare queste cose. Però i miei genitori si sono impegnati e mi hanno fatto questa cosa. Spesero tanti soldi nel 75 e lì ho cominciato poi comunque ad avere questi problemi, poi la parte inferiore. Prima hanno sistemato la parte superiore, poi siamo passati alla parte inferiore, ma erano sempre i dentini aggiustati un po' così. Insomma, io sono andata avanti fino all'età di 38 anni, con questo ponte in bocca, ma erano denti che non avevano forma, non erano bianchi, non erano belli. No, no, non avevo paradontite, avevo i denti che praticamente tra un dente e l'altro ci passava quasi una matita. Cioè si erano corrosi tra dente e dente, c'erano questi buchi che la saliva aveva pensato bene di consumare. Il dentista poi dove sono andato ha fatto analisi della saliva e lì è venuto fuori il problema che io avevo. Quindi in ogni caso io ero destinata comunque a perdere i denti o in ogni caso fare lavori di ricostruzione. Quello è stato fatto in quell'occasione nel 75? Sono passati circa 18 anni perché nel 96-97 mi si è presentato il problema che tutto quel lavoro è caduto perché i denti sono, i miei denti sotto si erano deteriorati, non avevano vita, quindi erano devitalizzati, quindi erano diventati molli, quindi non tenevano più il lavoro che mi avevano fatto quando avevo 16 anni. Lì è ricominciata la seconda epopea della mia vita, sono dovuta andare da un dentista, un implantologo, dentista, almeno si spacciava per tale. Però sai quando non hai conoscenza di certe cose ti affidi al primo venditore bravo a proporsi. Quindi cosa è successo? Che io mi sono imbattuta in questa persona, mi ha portato a fare, mi ha tirato via tutti i denti, tutti i miei denti che avevo me li ha tolti tutti, è stato anche lì un lavoro, una sofferenza e mi ha messo degli impianti, mi ha messo degli impianti, sei sopra e sei sotto, quattro sotto. La parte sotto che me l'agganciava con un click perché secondo loro non c'erano tecniche che potevano permettere questa cosa, che poi non ho capito. Sopra mi ha messo gli impianti e sotto me li ha messi quelli a click, poteva fare la stessa cosa anche sotto. Comunque, non sto qui a... E sopra mi ha messo sei impianti, tutti raggruppati nella parte anteriore, cioè quando poi dietro, quando masticavo, chiaramente faceva asse nella masticazione. Io però, ripeto, quando sei ignorante in certe cose, qui parliamo di ignorare determinate cose, non sai, pensi che il medico che è davanti è competente. Non lo era, non lo era per niente. Alla fine mi sono durati, li ho messi, il lavoro è stato finito poi nel 2000, perché mi sono sposata, mi ricordo, per la seconda volta, ciao Francesco. Poi, un anno fa, un anno e qualche mese fa, mi si è presentato il problema che quel ponte che mi avevano messo su questi impianti, tutti raggruppati davanti, il ponte mi si è spezzato. Mi si è spezzato, creandomi ulteriormente ancora il panico, la paura, ricominciare. E sono andata da un... questa volta però mi sono documentata. Sono andata in Italia da un chirurgo, chirurgo che lavora a Galeazzi di Milano, quindi non parliamo di uno stupido. Questo dottore, che è un dentista anche, mi ha fatto la visita e mi ha detto delle cose che io ho trovato decisamente strane. Allora, mi ha parlato che mi avrebbe fatto degli impianti zigomatici, quattro sopra, per esattezza, e uno centrale. Mi avrebbe, parole del dentista, rotto la macella inferiore per spostarmela avanti. Io mi sono spaventata quando mi ha detto, io ho sentito parlare di queste cose. Cioè, per un attimo mi sembrava di vedere un camion che mi passava sopra, proprio spaventata, devo dire la verità. Allora, mi avrebbero operato a Galeazzi di Milano, con un ospedale privato, con un macchinario dell'ospedale, con un'equip che lavora per la mutua italiana, l'Inps, come si chiama, l'Innail, in questo caso, e tutto questo al modesto prezzo di 46.000 euro. Quindi io pagavo questi soldi per essere operati in una struttura pubblica, con personale pubblico, con macchinari pubblici. Io, con quei soldi, avrei potuto pretendere allora una clinica privata, con un infermiere che era con me a 34, sedita e riverita. Ma questo non era, queste sono sciocchezze che sto dicendo io. Ma comunque tutto questo era riportato al fatto che secondo loro gli zigomatici sono cari. Vabbè, stavolta non sono passata per ignorante, ma mi sono informata. Finché un giorno mi ero quasi decisa a dire, ok, partiamo con il lavoro, ma è intervenuto mio fratello, che doveva venire anche lui qua. Anche mio fratello doveva venire qua. Mi ha detto, guarda, visto che il tuo è un lavoro che è più impellente del suo, vai, fa tanto cos'hai da perdere alla fine. Informati e vedi. Allora a quel punto io sono partita a tappeto e mi sono informata in tempo breve, perché parliamo di metà ottobre. In tempo breve io mi sono informata di persone che erano state qua, perché comunque dall'Italia a venire qua non è proprio dietro l'angolo. Quindi dici, ok, devo spendere, non so, l'importo che mi chiedono, però ok, però mi faranno un buon lavoro, che ne volevo essere sicura che questa cosa era fattibile. Allora ho incontrato persone che sono state qua e devo dire che mi si è aperto un mondo, quasi non credevo a quello che mi dicevano, perché sembrava che mi raccontavano delle storie che erano finte. Io non credevo a possibile pensavo, no, io ho detto, ma cioè, ma vi pagano per dire queste cose, perché era impossibile per me con l'esperienza pregressa di questi dentisti che tu arrivavi sulla poltrona, per loro eri una macchina da soldi, perché effettivamente è quello, quello che io ho sempre percepito. Cioè, sentire loro, vai là, trovi una famiglia, trovi la cortesia, trovi, se stai male ti seguono, se hai un problema ti seguono. No, io ero fuori dal mondo, io non potevo credere a questa cosa. Allora, poi vabbè, mi sono informata un po', un po', ancora un po', ho incontrato circa 4-5 pazienti, però tutti e 4 e 5 mi dicevano la stessa cosa. Allora a questo punto ho detto, se uno dice una cosa e tre dicono il contrario, allora indaghiamo in quello che è contrario per capire se veramente è tutto così. Alla fine ho potuto rendermi conto che comunque quello che dicevano era vero. Io, presa, ormai i tempi erano stretti, fine ottobre ho fatto il biglietto dell'aereo, cioè no, ho chiamato, ho mandato la panoramica, mi ha risposto il dottor Palmas, mi hanno dato un coach che mi segue telefonicamente, Francesco, ciao Francesco, bravissimo, mi ha dato un appoggio incredibile. Alla fine quando poi ho ricevuto i preventivi, sono arrivata, è arrivato il preventivo, chiaramente poi quando ricevi un preventivo ti fanno un preventivo, però è chiaro che quando tu poi arrivi qua fisicamente loro vedono proprio il problema proprio alla fonte, no? Però dal preventivo che mi hanno fatto al costo finale c'è poca, c'è un gap molto corto. Di conseguenza sono arrivata qua un anno fa, al 30 ottobre sono partita, sono arrivata qua da sola, tanta paura, sapevo che dovevo fare delle cose ma le dovevo fare io, nessuno al posto mio le poteva fare. Ho iniziato a chirurgia un giorno, due giorni, ringrazio il mio chirurgo Simeon che ha avuto una pazienza con me che non l'ho fatto disperare un po', protesista, vi hai nel cuore proprio, ragazze, voi tutte ragazze che siete di un cuore pazzesco. Ho iniziato questa cosa, ho fatto un altro viaggio poi a marzo, premetto che a marzo avrebbe dovuto venire anche mio fratello, purtroppo è venuto a mancare, quello che mi ha spinto a venire qua è venuto a mancare un incidente sul lavoro, ciao Michele, questo sorriso è per te. Io ho continuato fino in fondo, anche se c'era dolore, non fa niente, io avevo davanti ciò che mi ero prefissata, io mi ero prefissata questa bocca bella, bianca, sana, che guardi una persona, non ti guarda negli occhi ma ti guarda la bocca, quindi per me era una cosa, il mio traguardo e ho raggiunto. Quando sono arrivata qui che mi hanno fatto l'attacca, io ero convinta di fare l'anestesia generale con impianti zigomatici e invece qua mi hanno fatto il grande rialzo del macellare e mi hanno detto che non era necessario mettere gli impianti zigomatici per com'ero, non serviva l'anestesia generale e mi hanno fatto un ottimo lavoro, io ho visto l'attacca, vedo proprio dei bei soldatini in bocca bene allineati, sembra veramente che sembrano proprio dei soldatini, cioè in confronto del lavoro dell'Italia non c'era, ma poi quella cosa che mi hanno detto che mi dovevano spaccare la mano, io gliel'ho detto al mio chirurgo qua, ho detto guarda in Italia mi hanno detto che mi dovevano, ma proprio parola così, spaccare la macella perché dicevano che io avevo una rientranza e il dottore qua non ha riscontrato nulla di questa cosa, io non capisco perché, non lo so dove abbiano preso questa cosa, io ho un'occlusione perfetta, qui hanno trovato, ma io mi sento comunque un'occlusione, anche come parli, se una persona non ha un'occlusione perfetta sparano le lettere, le S, le Z, così, io non ho questo problema, adesso non so se loro due l'hanno visto, anche perché avevano la mia panoramica, non è perché non l'hanno vista, però non so perché hanno detto questa cosa, cosa che poi invece qua si è rivelata completamente sbagliata, io, ci sono le ragazze, queste anche devo ringraziare le ragazze alla poltrona che con me hanno avuto una grande pazienza quando sono stata male, perché nel secondo intervento ero un po' agitata e la mia pressione faceva un po' i capricci, diciamo, no? Però loro sono state di una dolcezza che, anziché due ore, è durato cinque ore il mio intervento alla fine, tutto perché non mi mettevano una mano addosso se io non mi calmavo, quindi cosa vuoi dire? Io sono qua adesso, da dieci giorni, mi commuovo perché è una cosa che chi non sa non capisce, chi non sa non capisce, arrivare in fondo a questi percorsi ti aiuta a capire veramente che se vuoi qualcosa nella vita e lotti lo tieni, lo tieni, non c'è niente da fare. Io ieri quando mi hanno messo i denti finiti in bocca, ho provato una gioia, sono saltata sulla poltrona, ho abbracciato quel povero protesista di miai che, poverino, è generoso con gli abbracci, quello che è, però, vabbè, sono stata un po' invadente, vabbè, mi scuso. Però io non posso dire altro che grazie, grazie al dottor Palmas è tutto, lui è la punta della piramide, vedendo giù fino a chi persino fa le polizie, cioè proprio fino all'ultima scala, no, che c'è, grazie a tutti. Non posso dire altro perché, beh, i miei occhi parlano, è un'emozione che, ed è ieri, io stanotte sono andata a letto, sorridevo, mi sono messo anche il rossetto prima di andare a letto, incredibile, però è una cosa che, non lo so, io consiglio alle persone, alle persone disperate, alle persone che non hanno speranze, alle persone che pensano che è finita, devono mettere in bocca una dentiera, se c'è solo una possibilità di poter evitare questo, capiamo, anche economico, però se uno può appena appena salta quel gradino, salta e vieni qua e qui ci ristituiranno quello che vuoi, quello che, come me, come me, io comunque ringrazio, ringrazio, ringrazio a tutti.